Allora andiamo al terzo posto, che va al numero 3, Giulia Matos. Giulia Matos, terzo posto, un applauso. Giulia? E per lei premia Pamela Santini, premia il terzo posto. Un applauso per lei terzo posto. E come potete vedere, ci sono lì loro due. Una di queste due sarà la misestate 2021, o sarà la numero 6, o sarà la numero 1. Allora ragazzi, noi diciamo, prima di coronare il primo posto, facciamo con il secondo posto. Aspetta, Fabiana, quello volevo spiegare. Noi chiamiamo la vincitrice chi vince, però premiamo prima il secondo posto e poi dopo incoroniamo il primo posto. Allora per il secondo posto, chiamo lei per fare, per premiare. Voglio qui sul palco. No, però non ora. Katiuscia? Dopo. Vediamo prima chi sarà la vincitrice. Poi dopo mettiamo le corone e le facce. Siete curiosi di sapere chi è la vincitrice? Le vedo tutte così con l'ansia. Ma chi sarà Ancero? La numero 1 o la numero 6? Se il DJ mi mette un po' di musica, forse lo diremo. Quasi quasi. Mi viene una voglia di dire. La vincitrice. Il 2021. Miss Trans Estate 2021, svolto a Rio Grande di Tirrenia. Sì, per fin. Se il DJ mi mette un po' di musica, la vincitrice. Se il DJ mi mette un po' di musica, la numero 6. La vincitrice. E allora a premiare Sireni San Marino, secondo posto, sarà Paola Cantanda. Paola Cantanda premia il secondo posto. E ora è il momento. Un attimo. Un attimo. Mi darla a tutti. Un attimo solo. Ragazze, un attimo, un attimo. Vorrei, Cleo. Cleo, ragazze, un attimo. Ferma tutte. Cleo qua, vieni avanti. Che ti viene messa la corona. Incoroniamo la Miss Trans Estate 2021 numero 6. Cleo. 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 Osranos. Bello. Cleo. Io voglio rimarciare!